Va ora in onda la rubrica Socioterapia, a cura della dottoressa Laura Sossi. Cari tutti, buongiorno. Sono Laura Sossi, socioterapeuta, mediatrice familiare. Vengo a voi oggi con un termine un po' particolare che forse può risuonarvi strano nel nostro contesto. La parola, il termine semiotica. Che cos'è la semiotica? E' quella parte della linguistica che studia il significato delle parole. Poi vi spiegherò perché ho iniziato così. Fra i vari concetti che riguardano la semiotica c'è la semiotica lessicale e la semiotica frasale. Cosa significa? La semiotica lessicale si occupa del senso della parola. La semiotica frasale si occupa del senso delle frasi, delle parole nel contesto di una frase e del loro significato. Perché parlo di semiotica? Perché tempo fa, leggendo un libro, a mio avviso, molto interessante, della dottoressa Ugazio, Valeria Ugazio, che è un professore ordinario dell'Università di Bergamo, psicoterapeuta, e dirige un centro molto importante della psicoterapia sistemica. Lei ha scritto un libro che si chiama Storie permesse e storie proibite. e riguarda il significato delle parole che vengono costruite nell'ambito della famiglia di appartenenza di ognuno di noi, nell'ambito della corte di appartenenza, nell'ambito dell'amicale, dell'ambiente in cui viviamo. Se in teoria in ogni famiglia ci sono dei termini che danno l'idea del valore che noi attribuiamo alle persone come valore massimo, per esempio, non so, ci sono i termini buono o cattivo, ci sono i termini ricco o povero, ci sono i termini laureato o istruito, co-ignorante. Perché dico ignorante? Chiaramente non come offesa, ma come persona che ignora. Questi termini incidono nell'evoluzione, nella crescita di una persona, in virtù del fatto che le sue rappresentazioni, e qui torniamo alla mia professione di socioterapeuta, dove valutiamo e dove lavoriamo sulle rappresentazioni della persona che la persona ha, del mondo che la circonda, vanno ad influire sul modo di valutazione che la persona ha della propria vita e della vita degli altri. Cosa significa? Certo che noi diciamo, vabbè, tutti noi diciamo che è importante essere buoni e non cattivi, certamente, però se come valore massimo viene dato nel rapporto familiare, nell'ambito familiare, al termine buono, buono può anche significare che uno dei componenti diventa talmente buono da farsi sopraffare dalla famiglia, dagli amici, dall'ambiente circostante, a costo di dare se stesso, senza aver la considerazione del valore del proprio sé, del valore della preservazione della propria entità, diciamo, e quindi andiamo per eccesso. Se, per esempio, nella nostra famiglia siamo cresciuti col senso, guarda quello, quella è una persona ricca e invece guarda quella è una persona povera, dove questi due termini stanno a dare, a significare il valore che diamo alla persona, allora, senza porci il quesito chi è quella persona, come mai è ricco così? Bene, però, che valore può avere superiore all'altro che povero? ma dicendo unicamente quello è ricco vale, io lo stimo, l'altro è povero, non lo stimo. Noi cresciamo, appunto, vedendo questi punti di riferimento come punti essenziali dove una persona può pensare di voler arrivare. La stessa cosa è istruito e ignorante, ripeto, ignorante, non come offesa, ma come persona che ignora. Come dicevo, ho sempre detto, la mia opinione è che essere istruito non significa essere colto. L'istruzione e la cultura sono due cose diverse. L'istruzione è una persona può essere plurilaureata e non essere colta, una persona può essere colta e non laureata. Dipende da quello che noi apprendiamo, dalle cose che viviamo, studiamo, leggiamo. Se questi termini vanno a influire nella crescita di una persona, mi riferisco ai termini precedenti, ricco, povero, istruito, ignorante, buono, cattivo, questo fa sì che a volte noi crescendo non abbiamo la percezione di quello che magari può essere il nostro valore riguardante l'altro. Cioè, se noi, per esempio, cresciamo in una famiglia dove determinante il raggiungimento dell'apice, del valore di una persona è quello di essere ricco, e noi diciamo, ma tendenzialmente io preferisco una persona che sia colta, una persona che abbia delle doti intrinseche nell'essere umano, a prescindere che uno sia ricco o non ricco, mi è indifferente. Mi è indifferente per il mio metro di valutazione che sia una persona con dei contenuti morali, con dei contenuti intellettuali, con dei contenuti amicali. Ecco, allora può essere che io entri in conflitto e quindi non mi riconosca, non mi riconosca nella famiglia di appartenenza, oppure mi senta non compreso dalla famiglia di appartenenza, oppure mi sento anche svalutato dalla famiglia di appartenenza, perché in qualche modo va a sminuire quelle che sono invece i miei punti di riferimento. Ora, quanto incide tutto questo? Questo incide nel momento in cui questo entra in conflitto con il mio modo di vedere le cose. Quindi mi chiedo se è giusto, è sbagliato, oppure molte volte ci sono delle persone che vivono molti anni portandosi dietro il termine semantico della famiglia di appartenenza, pur non stando bene con se stessi, finché questo non va ad entrare un po' in collisione con quella che è l'identità della persona in quanto tale. Quindi deve fare un suo percorso di conoscenza, di presa in considerazione di quello che lui è o lei è e di dare valutazione a quello che la persona pensa, a quello che è importante per la persona. Dunque, queste situazioni, queste discrepanze semiotiche, chiamiamole così, molte volte possono dare delle reazioni nell'ambito familiare anche contorte, controverse. C'è magari uno dei componenti che per ribellione, per altri motivi, ma per ribellione nei confronti della famiglia non comprensione, diventa cattivo in una famiglia dove buono e bravo, buono e cattivo sono i due parametri di valutazione, quindi diventerà cattivissimo. Ricco povero diventerà poverissimo, proprio per in qualche modo contrastare altri comportamenti o altre situazioni familiari che lui non accetta o lei non accettano. Quindi è molto importante stare a vedere, a sentire e a percepire qual è l'ottica familiare in cui noi cresciamo. E questo, se vogliamo anche fare un esempio doloroso, voi sapete che con la crisi, con la crisi che si è verificata nel nostro Stato, nel nostro Paese, il Veneto è stata la regione che ha più avuto casi di suicidio per quanto riguarda gli imprenditori, per quanto riguarda piccoli commercianti che si sono trovati veramente in situazioni drammatiche. Ora, al di là del dolore, al di là del rendersi conto dello sfacelo della propria vita lavorativa, insomma di tutto quello che avevano costruito, eccetera, però evidentemente una parte di loro si identificava con il lavoro e questo è un po' l'antropologia veneta, dove tu ti identifichi per quello che fai, non per quello che sei. E questo senz'altro ha lavorato, perdonatemi il termine, in maniera molto negativa nel momento di grande dolore, di disperazione di queste persone, perché evidentemente non si riconoscevano più in quello che loro erano come esseri umani, al di là di come potevano essere come imprenditori. Cioè un imprenditore può fallire, comunque una persona che ha lottato, che ha fatto, che ha costruito, però l'essere umano rimane. Se questa dimensione non si fortifica dentro di noi, non ci permette di affrontare le tante difficoltà che nella vita una persona si può venire a trovare. Quindi la rappresentazione che la persona ha di sé è basata, in quel caso doloroso di cui vi ho appena accennato, in quei casi dolorosi, è basato su quello che la persona fa. Perché se si basasse prevalentemente su quello che la persona è, la persona direbbe, beh, ho una famiglia, ho delle persone che mi vogliono bene, mi stimano per quello che io sono, a prescindere di quello che io faccio, a prescindere di quello che io ho. Probabilmente questo non ha aiutato, non era talmente forte da aiutare queste persone che con grande disperazione hanno scelto delle forme estreme. È molto importante che noi ci chiediamo chi siamo in base a quello che noi possiamo essere, possiamo diventare, possiamo vivere, ecco, appagandoci di quello che abbiamo. Certo, è importante che cerchiamo i nostri progetti, il nostro futuro, cercare di migliorarci. Io non mi riferisco solo dal punto di vista economico, possiamo migliorarci anche molto dal punto di vista esistenziale. Questo ci permette di non sentirci frustrati qualora non riuscissimo a raggiungere delle mette lavorative o delle mette, così, di obiettivi che noi magari durante la nostra gioventù, adolescenza, abbiamo visto, abbiamo mirato, sperando di arrivare. Perché il nostro essere, la nostra persona, deve avere un valore, a prescindere a dove riusciamo ad arrivare con il nostro lavoro che certamente ci può gratificare, ci può aiutare a raggiungere conoscenze nuove, a evolverci, però fondamentale è quello che noi siamo come persone. Fondamentale è l'appagamento dei momenti in cui viviamo qui e ora. Fondamentale sono i nostri affetti, si sono costruiti sulla verità e non sulla falsità. Cosa intendo? La verità, noi siamo questi, quindi cresciamo insieme con gli amici, i compagni, la campagna, i nostri affetti familiari. Noi siamo questi, vogliamoci bene per quelli che siamo. Non chiedeteci e non proponiamo quello che non siamo, pensando di essere accettati di più o pensando che ci mostriamo sotto una forma migliore. Dobbiamo avere però l'umiltà di apprendere. Questa è l'ignoranza o cultura, a mio avviso. Cioè il fatto che dagli altri noi possiamo apprendere e ragionarci sopra per cercare di migliorarci, non per cercare di imitare. Ognuno di noi è una persona unica, con dei particolari unici nel nostro carattere, nel nostro modo di essere. Possiamo sbagliare, certamente. Io diffido da chi non ha mai sbagliato, tendenzialmente, perché lo sbaglio fa parte della vita. Noi magari se guardiamo indietro, diciamo io quella volta non avrei fatto così, oppure ci sentiamo in colpa perché diciamo ecco, sbagliato, avrei potuto fare in maniera diversa o comportarmi in maniera diversa o prendere una decisione diversa. Può essere. Però chiediamoci sempre come eravamo in quel momento lì. Che cosa ci ha spinto ad agire in un certo modo in quel momento lì. Quindi oggi, se abbiamo capito di aver sbagliato, se abbiamo capito delle cose che all'epoca non capivamo, non avevamo ancora percepito, oggi tutto questo può servirci da lezione per migliorare il nostro vivere di oggi e di domani. Però non dobbiamo neanche penalizzarci o bellatamente o metaforicamente frustrarci per gli errori che abbiamo fatto. Probabilmente se abbiamo fatto degli errori li abbiamo anche pagati a livello di emozioni, a livello di dolore, a livello di scelte sbagliate. E oggi noi dobbiamo guardare al nostro presente, al nostro futuro, ricchi di quello che abbiamo appreso, di quello che abbiamo sofferto, di quello che abbiamo... Ci siamo portati dietro nel nostro vivere, nelle situazioni che abbiamo affrontato e che affrontiamo. Certo ci sarà sempre, ma questo sarà un altro discorso futuro, ci saranno sempre le rappresentazioni che gli altri vogliono ricordare di noi. Perché in qualche modo qualcuno, che tanto amico magari non è, ci ricorderà sempre certi momenti passati per dar valore prevalentemente a se stesso e per metterci in difficoltà. Non dovete accettare tutto questo. Attorniatevi di persone positive, di persone che credono in voi, vi stimano per quello che siete, comprendono i vostri difetti e ammirano i vostri pregi. Comunque, se c'è qualche pensiero che voi volete condividere con me, sappiate che la mia mail è laura-sotto-sossi-chiocciola-iau.it Il mio numero di cellulare è 392-170-1936. Buona giornata e a risentirci. Grazie. Grazie a tutti.